E' stata approvata dalla Regione Campania la graduatoria definitiva dei beneficiari dell'avviso pubblico per il completamento di impianti sportivi polivalenti. Con lo stesso decreto è stata anche riprogrammata la dotazione finanziaria passata da 30 a 35 milioni di euro. I progetti dichiarati ammissibili sono 87, 4 per la categoria città media, Scafati Casanovo di Napoli, Ercolano e Afragola e 83 per gli enti locali, di cui 25 per la provincia di Avellino, 12 per la provincia di Benevento e Caserta, 8 per la provincia di Napoli e 26 per la provincia di Salerno. Si tratta, sottolinea il consigliere del presidente Caldoro per lo sport, Luciano Schifone, di un decreto che gli interessati attendevano da tempo e che consente l'utilizzazione dei fondi europei del PORFESR per la crescita e il completamento di strutture sportive polivalenti indispensabili non solo per la pratica ludica ma anche come veicolo di inclusione ed aggregazione sociale. E' l'ennesima dimostrazione che la regione Campania, nonostante il momento di grande difficoltà economica, investe sul sociale di attenta a tutte le province campane, conclude Schifone. Per il Vallo di Diano a beneficiare di tale misura sarà Sala Consilina dove partiranno a breve anche i lavori di ristrutturazione delle tribune dello stadio Svaldorossi, il comune di Casalbuono per l'impianto sportivo De Filippo e Atena Lucana. I finanziamenti fanno riferimento allo quota FERSR POR Campania 2007-2013 che verranno ripartiti in base alla graduatoria agli abitanti degli enti partecipanti.